Settimane di perfezionamento tecnico calcistico ad Agnone. Lo stadio Civitelle sta ospitando bambini e adolescenti con la collaborazione della società locale Olimpia Agnonese. Tecnica individuale, conduzione palla, uno contro uno, slalome, tiri in porta, questo ed altro al campus di calcio in corso di svolgimento sul manto in erva sintetica al Civitelle di Agnone per la quarta estate consecutiva curato dal tecnico romano Pietro Donadio. Un appuntamento cresciuto in maniera esponenziale negli anni e che oggi ha superato i 200 partecipanti, molti dei quali provenienti dalla capitale con esperienze anche nel calcio giovanile delle leghe professionistiche. Siamo qui per il quarto anno di seguito qui ad Agnone dove abbiamo iniziato il primo anno con 33 ragazzi che ci hanno seguito da Roma e dal territorio. L'anno dopo sono diventati 70 per arrivare l'anno scorso a 120 e quest'anno supereremo la quota di 200 ragazzi. Volevo ringraziare per questa idea il comune di Agnone, il sindaco Daniele Saia e il presidente della polisportiva dell'Olimpia Agnonese Mario Russo e soprattutto Fernando Sica che insieme a me ha ideato questo progetto qua sul territorio. Una decina di tecnici che hanno raggiunto la località in Alto Molise assieme a Pietro Donadio. Le attività sportive proposte termineranno sabato 20 luglio. Un'occasione oltre che di perfezionamento sportivo anche per incontrare persone nuove e scoprire questa parte della provincia di Isernia dal punto di vista storico, gastronomico e paesaggistico.